Ciao, sono Cinzia De Palco, esperta di local marketing e Google My Business, autrice del libro Storie di local marketing. In questo podcast ti darò spunti, idee, strategie e consigli per avere la fila fuori al tuo negozio e per far andare al massimo la tua attività di business. Buongiorno e ben ritrovati, io sono Cinzia De Palco, voi siete su Marketing per negozianti, soluzioni vincenti per attività locali. Qualora non l'aveste già fatto andate subito su www.marketingpernegozianti.it e andate a scoprire la soluzione vincente per il vostro business. Ricordiamolo come sempre, Marketing per negozianti è il primo e unico podcast italiano dedicato esclusivamente alle attività locali, alle attività sul territorio. Questo però è oggi un martedì, non è il nostro solito martedì, perché è un martedì nero, non so come dirvelo. Dopo anni ormai che Google My Business ci aveva abituato al suo grande potenziale con continui miglioramenti, integrazioni, implementazioni, ci lascia, ci dice addio. Quindi non so davvero come darvi questa notizia, ho cercato di alleggerirla in qualche modo, ma purtroppo è così, dobbiamo farcene una ragione. Naturalmente sto scherzando, Google My Business semplicemente cambia nome come ha sempre fatto, ma ci tenevo a dedicare questa puntata proprio a questo cambio nome, perché in molti mi hanno scritto preoccupati, anzi preoccupatissimi di questa morte di Google My Business, di questo addio di Google My Business. Assolutamente no, parliamo di rebranding e non solo. Da oggi Google My Business diventa Google Business Profile. Quindi attenzione, in realtà Google My Business ci ha già abituato in passato a questi cambi di nome. Se vi ricordate, se mi seguite dall'inizio come mi auguro, ricorderete sicuramente che in origine era Google Places, diventato poi Google Plus o ancora Google Plus Business, fino a diventare Google My Business, il potente strumento di business che conosciamo oggi, ma fa un ulteriore passo in avanti. Oggi diventa Google Business Profile. Quindi questo è un giorno da festeggiare, un martedì da ricordare, 9 novembre 2021. Google My Business si trasforma in Google Business Profile. Perché? Che cosa è? Qual è l'obiettivo, l'intento di Google. Ancora una volta è quello di semplificarvi la vita per voi che gestite le attività locali e quindi avete già tantissime altre cose da fare. Negli ultimi mesi, se ci avete fatto caso, era già stata abilitata l'opzione per modificare alcune informazioni della vostra scheda Google My Business direttamente dalla ricerca. D'ora in avanti, dalla ricerca e da Google Maps si potranno completare sia le verifiche delle sedi che risolvere tutta una serie di problemi di aggiornamenti. Detta in soldoni, per gestire adesso la vostra attività locale non ci sarà più bisogno di entrare nella dashboard, cioè nella panoramica della scheda Google My Business, né tantomeno dell'app che avete dovuto scaricare da mobile per poter gestire o modificare le informazioni della vostra scheda Google My Business. Ma potrete fare tutto questo attraverso la ricerca, quindi Google Search e Google Maps. Che cosa vuol dire in soldoni? In soldoni vuol dire che andate a scrivere nella barra di ricerca Google il nome della vostra attività, come ad esempio 667.agency, marketing per negozianti e uscirà chiaramente direttamente delle funzionalità, cioè potrete gestire e modificare il profilo direttamente da lì senza dover entrare più da nessuna parte. Quindi vi ripeto, per fare questo basterà cercare il nome della vostra attività su Google o su Google Maps e si vedrà un'opzione per verificare il business profile a questo punto. Iniziamo ad abituarci a questo nuovo nome, risolvere problematiche e modificare alcune informazioni. Quindi dalla ricerca e dalle mappe si potranno modificare le informazioni che la gente può vedere ad esempio quando cerca l'attività come l'indirizzo, io ero di apertura, fare dei post, fare delle campagne, rispondere alle recensioni, rispondere direttamente ai messaggi, finalmente da desktop, da computer e molto molto altro. Quindi vi consiglio di andare a vedere subito per capire di cosa sto parlando nel dettaglio, digitate nella barra Google, quindi nel motore di ricerca, il nome della vostra attività e vi vedrete proprio dei quadranti, dei quadrati dove vi dirà aggiorna gli orari, rispondi alle recensioni, modifica le informazioni, fai un post, fai una campagna Google, tutto da lì. Quindi nei prossimi mesi tutte le attività che creeranno un business profile a questo punto su Google saranno in grado di completare l'intera installazione, quindi l'intero setup direttamente tramite ricerca Google Search e Maps. Gli account però con più sedi invece continueranno ad avere la vecchia interfaccia, quindi con la classica e la tradizionale dashboard panoramica che ormai siete abituati a insomma a vedere. Ma si tratta soltanto di un rebranding, si tratta soltanto di un cambio di nome e diciamo di una semplificazione di passaggi delle scorciatoie. Diciamo che le nuove funzionalità di Google Business Profile, quindi non parliamo soltanto di un rebranding, includono richiesta e verifica del profilo dell'attività direttamente ricerca Google e Google Maps. La cronologia delle chiamate, attenzione, sta per essere lanciata ufficialmente negli Stati Uniti e in Canada. Come sempre sapete che quando si lanciano gli esperimenti negli Stati Uniti, in Canada o comunque in America, poi il passo per arrivare in Italia è abbastanza breve. È possibile inviare messaggi direttamente da ricerca Google, quindi ve l'ho anticipato poc'anzi, come vedete non si tratta soltanto di un rebranding, di cambio di nuove, ma proprio di nuove funzionalità che prima non era possibile fare da desktop soprattutto. Ci sono le conferme di lettura dei messaggi che possono essere controllate sia da ricerca Google e Maps, insomma è davvero semplice adesso gestire la vostra attività, quindi andate subito a cercare il nome della vostra attività e potete modificare da cellulare, quindi via l'app sicuramente sarà eliminata, a breve non ci sarà più e abitiamoci a questo nuovo nome, perché sono sicura che questo Google Profile Business ci darà soddisfazione, sicuramente ci sarà riservando delle sorprese, quindi restate sintonizzati e come sempre, seguitemi ogni martedì perché passo passo sapete che io vi anticipo e vi lancio alle nuove novità Google. Quindi mi raccomando, adesso non parlate più di Google My Business, ma di Google Business Profile e soprattutto andate a verificare subito queste scorciatoie, perché adesso gestire la vostra attività sarà davvero davvero molto più semplice, soprattutto quando dovete andare ad aggiornare le informazioni che so essere diciamo una bella noia per voi perché insomma entrare nell'app da cellulare oppure entrare nella dashboard non è proprio semplicissimo, adesso invece potete modificare tutte le informazioni che volete, addirittura fare dei post o delle campagne, cercando direttamente il nome della vostra attività su Google Ricerca e Google Maps. Quindi spero di avervi dato una bellissima notizia e io invece come sempre vi aspetto al solito martedì, al prossimo martedì. Ciao!